Ciao, io sono Dora Lia e lei è Maia. Io sono Elena. Il motivo per cui faccio volontariato è per empatia. Grazie al volontariato posso passare tempo con loro. Penso che sia una delle cose che mi dà più nella vita. Aiutare gli animali è un'emozione molto grande. Il mio animale preferito è la papera. E il delfino. E il lupo. Qua, 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 qua. Non sono in grado di fare il delfino. Meglio un quattro zampe oggi che qualsiasi cosa domani. Per contribuire al benessere dei cani e dei gatti in cerca di una nuova famiglia. Abbiamo pensato di donarvi 240 kg di alimenti monge. Grazie monge per le donazioni. Le donazioni sono importanti perché... Aiutano i rifugi come il nostro a mantenersi in vita. Il mio piatto preferito sono gli spaghetti al sugo. La creme brulee. La crema di nocciola si può dire? Sopra a panca la crema... no. Il mio cantante preferito è a rame de palo. I pinguini tattici nucleari. Suggerisci. Meraviglioso amore mio. Ciao Lucky. Sono dalla parte degli animali. Sono dalla parte degli animali. Anche noi siamo dalla parte degli animali.